Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Sì! Buon day! Benvenuti in questo nuovo video Scusate la voce ma non guarisco più Cosa dovete fare? Lasciate già un bel mi piace, iscrivetevi al canale E se vi iscriverete durante questo video, ormai lo sto facendo sempre Commentate con nuovo iscritto e vi metterò il cuorecino Cercherò di dare benvenuto ai nuovi iscritti, ai nuovi componenti della famiglia di Giuse Tutti i piccoli ananas Allora, oggi siamo qui con un video diverso dal solito, non sarà un vlog Cosa faremo oggi? Oggi proveremo a vincere un iPhone Cosa è successo? Praticamente mi ha contattato Drake Mall e mi ha detto Ehi Giuse, abbiamo visto che il tuo telefono è un po' ridotto male E in effetti tutti i torti non ce li hanno Ovviamente ringraziamo sempre Roby, ecco per avermelo conciato così E mi ha detto, ti andrebbe di provare a vincere un iPhone? E ho detto, eh, sì, sì, vorrei provare a vincere Basta che mi fate un'assicurazione contro danni provocati da Roberto Oggi siamo qui su Drake Mall e come vedete un sito, un'applicazione, chiamatela come volete Dove abbiamo dei crediti, qua ci sono 100 dollari e qua ci sono varie confezioni Dove possiamo decidere di aprire, provare a vincere appunto qualcosa Questo sito ovviamente va a fortuna, ok? Non è detto che io possa vincere qualcosa Però mi hanno dato l'account premium L'account premium in teoria, e dico in teoria, ti dà qualche possibilità in più di vincere Quindi oggi voglio provare a vincere un iPhone E vi prometto, ve lo prometto Che se dovessi trovare qualcosa di più costoso tipo un Mac Un MacBook, quindi il computer dell'Apple Lo scarto, giuro che lo scarto Perché io voglio l'iPhone X, voglio l'iPhone nuovo Visto che il mio mi sta abbandonando E prometto anche un'altra cosa Che non lo lascerò mai in mano a Roby E non lo lascerò mai sul tavolo da qualche parte Tutterò sempre in tasca Quindi io direi di iniziare subito Di provare la fortuna Vi lascio anche il link del sito In caso voleste provare anche voi Vi ricordo che io sto usando l'account premium Quindi con l'account premium ho più possibilità di vincere Io direi di commentare con hashtag Buona fortuna Allora, stare in postazione Così seduto mi fa stranissimo Cioè, fa proprio strano Io di solito giro con la fotocamera Tutto Comunque, allora siamo sul sito Non sono bravo a fare queste cose Perché io sono un vlogger Hashtag vlogger In genere non registro video sul computer Allora, siamo su Drake Mall Wow case Che c'è un hoverboard Oh Un portachiavi Un portachiavi Cioè, mi vorresti dire che con l'account premium Io trovo un portachiavi È arrivato il momento ragazzi È arrivato il momento Ragazzi, sono teso Io devo vincere quest'iPhone Perché mi è distrutto Proviamo Posso scegliere solo un oggetto Di conseguenza Se mi dovesse uscire un MacBook E un iPhone Posso uscire solo l'iPhone Quindi io apro Open case Open Ok, ci siamo Io del Apple Airport Express Non me ne faccio una beata Lo vendiamo 170 dollari 170 crediti Non ancora più di prima Va con un'altra Nuovo giro Nuova la corsa No Vabbè raga Ho trovato l'iMac 1500 dollari di valore Ma io ho bisogno di un iPhone Ho bisogno di un iPhone Sicuramente voi starete pensando Ma perché non ti prendi l'Apple iMac Io ho bisogno dell'iPhone X Ho bisogno dell'iPhone X Perché il mio è distrutto Computer ce l'ho A malincuore Scartiamo questo oggetto Lo rivendiamo E abbiamo ben 1600 dollari di crediti Come chiamateli come volete Allora io direi di andare sulla home E aprire la cassa più grossa Che c'è quella da 99 dollari Open Open Per chi è nuovo sicuramente si starà stupendo Nel mio comportamento starà dicendo Ma questo è rimbambito Invece per chi mi conosce sa che sono fatto così Io tengo gli occhi chiuse No me ne faccio niente del Wi-Fi Projector Sell item Sell item Sell item Raga Io nella vita sono sfortunato Sia in amore che nel gioco In tutto Ok Occhi chiusi Mi ha partito Partito Oh io ci rinuncio Basta Maria io esco Esco Maria Apriamo Oh ma mi vuole male Oh ma mi vuole male Mi vuole male Ancora questo smart home hub Che non so cosa sia Un'altra tastiera Un'altra tastiera Vendiamola Dai Dai Per uno Per uno Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Non ci credo Non ci credo raga Non ci No raga Non ci credo Eccolo Eccolo Deliver Sarebbe Ok devo Devo mettere tutti i miei dati di spedizione Vi giuro che Non sto nella pelle Non vedo l'ora che mi arrivi Ovviamente Quando mi arriverà l'iPhone Farò un ulteriore video Dove mi mostrerò Il mio nuovo iPhone E vi proverò Che l'ho vinto davvero Che non ce l'hai capito Spero che il video vi sia piaciuto Io vi lascio il link del sito In descrizione Ovviamente io vi ricordo Per un'ulteriore volta Che avevo l'account premium Ok con l'account premium C'è più possibilità Di vincere qualcosa Raga non riesco più a parlare Non sto nella pelle Non ci credo Che ho vinto un iPhone X Non ci credo Comunque io vi saluto Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Se avete visto il video Fino alla fine Commentate con hashtag Fino alla fine E ancora grazie Davvero per come stanno andando I video nell'ultimo periodo Un bacione